Pugnali, catane, mazze da baseball, bombe farcite di chiodi, kalashnikov, balestre, pistole artigianali, pipe bombs, fucili da cecchino e ancora tirapugni di acciaio, coltelli da cucina, asce medievali, mitragliatori, bombe a mano e addirittura razzi di quelli utilizzati nella guerra dei Balcani. Un campionario vastissimo che non appartiene ad un'armeria ma all'elenco di sequestri messi a segno dai carabinieri del comando provinciale di Napoli. Nei primi cinque mesi del 2022 carabinieri di Napoli e provincia hanno sequestrato 365 armi di varia natura, 158 da taglio, 123 da fuoco e 78 di quelle definite improprie, per intenderci mazze, tirapugni, nunciaco ed altre. 365 potenziali minacce che si traducono in 153 denunce in stato di libertà per porto abusivo di armi e 37 arresti, tra questi anche i minori, 37 quelli denunciati, 3 quelli finiti in manette, un dato allarmante che racconta di un minore denunciato o arrestato ogni 36 ore. Il 7 maggio scorso ad Arpino di Casoria le piste di un bullying sono diventate un vero e proprio ring. Ad avere la peggio fu un quattordicente che ha riportato un trauma cranico e diverse ferite d'arma da taglio al torace. I militari della stazione locale hanno identificato e denunciato 7 giovanissimi dai 14 ai 16 anni, tutti incensurati. L'arma utilizzata non è stata trovata ma ciò non impedirà loro di rispondere di rissa. Alta la percentuale di ragazzi tra i 18 e i 20 anni soppresi in possesso di coltelli e tirapugni. Al torre del greco i carabinieri della locale stazione Radiomobile hanno fermato un giovane mentre passeggiava sul litorale. Perquisito è stato trovato in possesso di un tirapugni. Il controllo è stato esteso anche alla sua abitazione e di lì che i militari erano rinvenuto e sequestrato due coltelli a Serramanico. Dovrà rispondere di porto abusivo di armi. Ancora un tirapugni, questa volta tolto dalle mani di un quindicenne, è successo a Marano. Tre i ragazzini di Caevano tra i 15 e i 16 anni segnalati dai passanti spaventati in via marina a Napoli perché armati di coltelli e tirapugni. Un diciassettenne è stato trovato in metro al vomero con un coltellino a Serramanico. Grazie all'utilizzo dei metal detector i carabinieri sono stati in grado di sottrarre la lama al giovane prima che si mischiasse nella folla. Al noro un diciassettenne è stato sorpreso con due proiettili calibro 22 in tasca e una dose di cocaina. In merito le dichiarazioni del comandante provinciale carabinieri di Napoli, generale di brigata Enrico Scandone. Alla luce della recente recrudescenza delle aggressioni fatte con armi nei territori della provincia, il comando provinciale carabinieri ha incrementato i servizi in contrasto all'uso e soprattutto al porto abusivo di armi, soprattutto da parte dei giovani minorenni. Tanto per intenderci, queste sono due armi sequestrate negli ultimi sequestri, sono armi che uccidono. I ragazzi purtroppo oggi spesso non si rendono conto che portare un coltello non è oltre a essere reato, è pericoloso per gli altri e per se stessi, perché un'arma del genere in mano a una persona può vuol dire grave ferite o la morte di qualcuno, semplicemente per l'uso improprio di un coltello. Noi stiamo facendo una campagna fortissima per la prevenzione, stiamo invitando tutti, soprattutto i ragazzi, a evitare il rischio di prendersi delle coltellate o di fare del male a dei loro coetani senza rendersi conto di quello che fanno. Un coltello ferisce, un coltello uccide, un coltello provoca delle lesioni che possono essere gravissime permanenti. La nostra attenzione si rivolge ovviamente alla repressione, ma tantissimo alla prevenzione. Dobbiamo far capire ai ragazzi che l'uso di armi, qualsiasi esse siano, tirapugni, manganelli, bastoni, punteruoli, provocano delle ferite e dei danni che sono inarrabili per chi le subisce e per chi le commette, perché si trovano a essere autori di reati gravissimi, spesso senza nemmeno rendersene conto, pensando quasi che sia un gioco come magari vedono nei film o nei videogiochi.